Ciao ragazzacci, sono i Biciot2C che facciamo qui su Constrax Simulator Gold Edition Allora, siamo sul nostro mulettino perché dobbiamo caricare questi 6 pallet Allora, 6 pallet da caricare, di cui, madonna mia, sul muletto la musica, il volume mi uccide Il volume mi uccide sul muletto Allora, prendiamo questo qua per prima Ok, perfetto, peraltro me li potevi caricare tu che facevamo prima Allora, prendi, prendi, prendi Ok, torna indietro, così si collega il carico Visuale paraurti, visuale lì, l'interno, ok, questa qui è la visuale giusta Allora, mettiamo lì questi qua, dobbiamo mettere tutti e 6, poi dobbiamo fare due viaggi Perché non mi ci sta tutto, dovrei comprare il rimorchio, ma questi gran cazzi Faccio prima questo camion, che è con quell'altro rimorchio Allora, metto tutto qui, ok, questo qui è il primo di 6 Madonna mia, ce n'è da caricare, eh Ok, prendiamo anche questo Poi ci basta caricarli, non benissimo Ah, ah quanto bene Voglio vedere se riesco a metterli uno sull'altro Se me lo dà uno sull'altro Perché devo prendere anche quei due cosini là Però mi sa che è meglio se faccio due viaggi, va È meglio se faccio due viaggi che sto tranquillo Se no qui ogni tanto perdi pezzi, perdo Perché secondo me due pallet uno sull'altro non possono stare Non so, dovrei provarci, non ci ho mai provato Però la vedo male, la vedo male E non voglio fare del casino E poi mi conviene fare due viaggi che faccio prima Allora, carichiamo Molti si lamenteranno perché faccio carico e scarico In questo gioco si carica e si scarica E molti si lamentano che faccio carico e scarico Ovviamente in un gioco è tipo come se uno si lamentasse che faccio i viaggi su Eurotrack Si può fare solo i viaggi su Eurotrack Quindi, vabbè, possiamo stare Oppure American Track, ecco Su American Track si fanno solo i viaggi in America Qualcuno si lamenta che faccio i viaggi Boh Io non capisco Certe volte faccio fatica a capire i commenti I commenti delle persone È come se uno giocasse a Call of Duty Dice non sparare Non giocare più a... Cioè, non sparare sempre Spare e basta in Call of Duty Non è che c'è da fare chissà che cosa Non è che è tipo un gioco dove tu vai a fare... A influenzare l'economia mondiale Cioè, no No Quindi, non lo so Vabbè Comunque, mettiamo sti sei qua E poi il viaggio vediamo che forse me lo fa fare con il... Spero che me lo faccia fare col viaggio rapido Perché sennò mi rompo le palle proprio Allora, buttalo qui dentro Scendi, scendi Poi lo lanci qua Ok Andiamo avanti Che casino Che casino comunque Devo capire perché quando cambio il visuale Cambia il volume Qua il volume è fortissimo Non lo so perché è così tanto forte Ok Prendiamo anche questi due Ok, sta compenetrando nel modo sbagliato Ok, visuale interna Ok, sei ci stanno Ci stanno alla grande sei Ce ne stanno anche otto Se uno li mette bene Però sapete che non sono il tipo che li mette bene No, otto no Otto non credo Neanche se li metti bene ce ne stanno otto È difficile che ce ne stiano otto Ok, prendiamo l'ultimo Prendiamo l'ultimo qua Se mi fa fare il viaggio col carico Sono a posto Perché lo so che senza il carico me lo fa fare il viaggio Ma col carico chissà Uh Carico slegato Perché si è slegato il carico? Boh Si slegano i carichi Perché si compenetra Tutto si compenetra Guarda Guarda che l'ho perso Sapevo che lo perdevo Vabbè che è caduto bene Dai, almeno questo È caduto bene Non so perché ha fatto sto giochino L'avevo legato E si è slegato Ok, lo prendiamo da terra Che è più semplice Invece di mettermeli in quel cazzo di coso Ah, forse l'ho slegato io Perché ho premuto il pulsante E sbagliato Ok Invece che mettermeli in quei cosi Mettemeli per terra Che faccio 30 minuti prima Cioè Lo faccio in un corpo solo Lo faccio Ok Fermiamoci Scendi da sto cazzo di mezzo Andiamo a vedere se possiamo Collegare i mezzi Tutto No Uno non è collegato bene Ma quando chiudo le sponde Poi si sistema Sistemati Ok Scendi gentilmente Adesso è collegato tutto benissimo Aggancia carico Infatti adesso c'è agganciato Allora andiamo a cantiere 2 Me lo fai fare? Se no me lo salto Sto parte Non posso essere consigliato Ok Ci vediamo al cantiere Ok Siamo sul cantiere Ho fatto un piccolo incidente Ma Non fa niente Le sponde le posso lasciare pure alzate Dobbiamo andare da quella parte Mi conviene a fare il giro Tanto lui non salta più Ve l'ho detto Dopo che ha fatto i soldi Non salta più Questo lo lasciamo qui Aggancia carico Così si chiude Così è più carino Saliamo di nuovo sulla gru Oggi faremo un sacco Cioè In questa cosa Mi sa che faremo un sacco di gru Perché la vedo molto Molto potente la gru Allora Abbassiamo Tanto cerchiamo di non tirarci niente Allora Condominio Questo è l'altro L'altro compito che sto facendo Ma lo faccio fare agli operai Mi basta solo cliccare Se lo fa lui Se lo fa Così io intanto posso fare altro Posso fare Dai Però quando vado lì Poi si fermano tutti i pulsanti Non mi chiedete perché Allora Andiamo a prendere questo Andiamo a prendere questo Così Collegalo Perfetto Dobbiamo tirarlo indietro Ci basta solo fare avanti e indietro Avanti e indietro Perché la zona dove dobbiamo scaricare È qui Quindi dobbiamo fare solo un Su e giù Su e giù Abbastanza semplice E questa Guarda che è grandissima sta zona Ah vero Devo metterci anche Le altre cose Devo metterci Ecco perché è grandissima Devo metterci anche le due blindature Che ancora qui Non sono presenti Dobbiamo ritornare di là E riprenderle Però quelle si prendono con la gru Si fa anche in fretta Magari quelle non riuscirò Due Non so se ci stanno due Uno sull'altro E non me lo ricordo Ci proveremo Ci proveremo E anche se non si agganciano Chi se ne frega Le portiamo in quel modo Tanto non dovrei Se guido bene Non perdo il carico Il carico lo perdo solo Quando faccio il pirla Che vado a fare i sorpassi E cose Ok Andiamo a prenderne altri due Cerchiamo di non urtare Con il gancio Perché comunque il gancio Potrebbe rompere qualcosa O potrebbe rompersi il gancio Ok Andiamo a prendere questo Prendilo Perfetto Sali su E torna indietro Senza farti problemi Così piano piano Se me li togli anche Da mezzo alle palle Là mi fai anche Un piccolo piagere Cioè vedete qua Che sono questi qua Se lui me li togliesse Anche dalle palle Mi farebbe Un buon Un buon Metà del lavoro Cioè dopo che te li porto Chiama l'operaio Che l'operaio Li prende Li smista In giro per il mondo Allora andiamo qui Andiamo qui L'altra gru Potevamo utilizzare L'altra gru Boh Non sapete che non lo so Dovemmo provarci Magari Riponiamo questa qui in sede Tanti soldi ci sono ormai Chi se ne frega Riponiamo questa in sede E vediamo se possiamo Prendere l'altra Che però l'altra è più grande Non so se ci sta o meno Non so se arriva per terra L'altra Però sì Credo di sì Insomma che gru è Se non riesce a prendere le cose Da per terra L'altra però è più forte Mi sa che l'altra è più forte Ok Andiamo a prendere questi due Allora così vai verso il giallo Vai verso il giallo Ok Vai 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 Ti prego Abbassati un altro pochino Ok Non è che si capisce bene bene però Io non so come fa a lavorare Quello lì Quello lì da dentro la cabina O c'ha un binocolo Boh O c'ha tipo qualcuno Ecco Secondo me c'ha qualcuno a terra Che gli dice Più a destra Più a sinistra Questa può essere una cosa Una cosa realistica Qualcuno che gli dice Vedi che sei troppo in qua Troppo in là Lo lascio qui Lo lascio se per te va bene Ok per lui va bene Buttiamoci qui sotto Ok Prendiamo anche l'altro E poi dobbiamo andare a prendere le due blindature Che abbiamo già comprato Quindi Nessun problema Allora Spigi 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 prendi questa Ok ci siamo Adesso dobbiamo portare questa qui lì sopra E la portiamo subito La portiamo Magari giro un po' di qua Perché vedo che ho fatto un po' del casino Ho fatto la muraglia cinese Ho fatto qui Che per passare adesso devo alzare tantissimo Però ormai ci mancano due blindature Chi se ne frega Mettilo da questa parte va Che è meglio Ok lascialo qui Ok questo è fatto Allora scendiamo dalla gru Ovviamente mi fa scendere dal culo della gru Fammi scendere dove c'è il buco per l'entrata no Così mi sbrigo prima Mi sbrigo Andiamo a caricare le due blindature Oggi facciamo questi viaggetti qua Un po' verso I pezzi che ci servono Per completare il nostro Il nostro ospedale Allora dobbiamo andare alla fabbrica Questo Rivenditore di materiale di edilizio Eh mi scordo ogni tanto Andiamo a prendere quei due già che ho comprato Quindi li ho già presi Cioè sono solo da Posizionare qui sopra al mezzo E si posizionano anche velocemente Perché comunque tu Con la gru che c'è lui Cioè lui c'è la gru Vedete là sopra Infatti sto estraendo i piedi Condominio Aspetta un attimo Eh fatti questo pezzettino anche tu Ci mette anche poco Ci mette però Insomma Che rottore di coglioni Cioè Sarebbe carino tipo Ho tre operai Fai lavorare tre operai Se i lavori non sono Tipo consecutivi Tipo Ovviamente se un lavoro viene prima di un altro Non puoi fare il secondo Se non finisci prima Però se i lavori sono Tipo pianta gli abri E E metti il cancello Lo puoi fare Allora prendiamo questo Guardate come sono bravo con la gru Abbassiamo le sponde Gentilmente Così C'ho meno problemi Ok Perfetto Gira Gira e alza Gira e alza Metti un po' dritto Questo pezzo Mi basta metterli al centro Mi basta metterli Anche uno sull'altro Perché so che funziona Infatti questo lo metto qui Dovrebbe funzionare Se non mi ricordo male Dovrebbe funzionare Ti allunghi o non ti allunghi più Allora vai di qua Collega anche questo Io lo buttiamo di sopra Chiudi mi risponde 50 dita mi servono Mettiti bene Mettiti bene Che lo colleghiamo Mettiti bene Che lo colleghiamo insieme Poi Tira un po' indietro E la miseria Guarda quanto ho girato Un po' più in qua Un po' dall'altra parte Ok perfetto Vediamo se mi fa collegare Il carico Mi ha fatto collegare Il carico Perfetto Premiamo tab Per resettare Non è tab per resettare È backspace Per resettare il mezzo E ci vediamo Direttamente sul cantiere Ok ci siamo Sono arrivato qui sul cantiere Adesso prendiamo Quei due pezzettini Cerchiamo di prendere Prima quello che sta su E poi quello che sta giù Se no succede un casino Quindi devo prendere Prima la pallina sopra Se attacco prima Quella sotto Succede un casino Che l'altro vola Però vediamo di non far volare niente Ok perfetto Torniamo indietro Con questa blindatura Finiamo anche La parte Del lavoro Che dovevamo fare Ok torna indietro Mettiamola qui Da qualche parte Tanto lo spazio c'è Ma è dato uno spazio enorme Mi ha dato Ok Sei contento lui però Chi se frega Buttiamola qui Così al volo Tanto se si rompe Non si rompe niente Su questo gioco Quindi si può Lanciare i pezzi A mille chilometri Di distanza E non succede niente Pensate un po' Sarebbe bello Se fosse così Nella realtà Tipo prendere i bambini E lanciarli a 30 chilometri Ok Perfetto Avete presente Quei bambini piccoli Che piangono sempre Che rompono i coglioni Li prendi Li tiri un calcio Li fai volare 20 metri E loro non si fanno niente I bambini Sono fatti di plastica Tipo Secondo me I bambini Quando sono piccoli Sono fatti di plastica Boh Secondo me si La mia teoria è giusta Allora Spostiamoci Quindi spostiamoci Con la gru Perché se no Non riesce A sistemare A far salire il tetto A far salire L'altro piano Ecco Quindi Mettiamoci di lato Se no Non riesce ad andare avanti Come vedete Adesso si fermerà Ah un attimo Oh È libera Cazzo vuoi Camion con gru Ah devo liberare Anche il camion con gru Andiamo sul camion con gru Dov'è Camion con gru Dobbiamo farci un po' più indietro Se no Lui non riesce A fare niente Quindi spostiamoci un po' Ok Getto di caccia istruzione Ovviamente preparato sul cantiere Che rottura di coglioni Questa volta però Utilizzeremo la La gru Utilizzeremo Io direi di Andare un attimo Con questo camion Dal Rivenditore Di Materiali edilizio Forse lui ce l'ha Lo facciamo adesso Poi il calcestruzzo Lo buttiamo nella prossima puntata Andiamo a vedere se è vero Quindi mettiamoci qua Non ne sono sicurissimo Eh Basta Fermati Perché dobbiamo prendere Un pezzo A noleggio Cabina sanitaria Benna calcestruzzo gru Questo dobbiamo prendere Acquistala Acquistala Dove me l'hai messa Me l'hai messa lì Oh io questa qui La caricherei anche Adesso No poi me la carico io Non mi preoccupate Perché tanto non la posso Spostare a destra e a sinistra Come vedete questa qui Ci serve Se noi ci buttiamo il calcestruzzo Qui dentro Possiamo con la gru Con la gru possiamo Gettare il calcestruzzo Negli elementi più alti Quindi è quello Che proprio Che ci serve Non so come funziona La prima volta che la vedo Non credo mi abbia fatto fare Un tutorial Noi ci vediamo Nella prossima puntata Con la Benna Già lì in cantiere Così scopriamo come funziona E getteremo il calcestruzzo Anche se io lo odio Ci vediamo Nel prossimo episodio Ciao